Qual è il problema? Quei figli di puttana non sono qui per comprare un mandingo. Vogliono la ragazza. Steven, di che diavolo mi stai parlando? Che ti prendono per il culo, di questo ti parlo. Non sono qui per un muscoloso Jimmy, ma per la ragazza. Quale ragazza? Hildy? Sì, Hildy e Django. Quei negri si conoscono. Ha comprato Eskimo Giova. Ti hanno dato dei soldi? No, non ancora, però... Allora che ha comprato? Una sega ancora. Ma invece stava per comprare chi è venuto a comprare quando l'ho interrotto. Grazie, Steven. Ben. Figurati, Calvin. Come ci sei arrivato? Perché prendersi tanto disturbo per una negra con la schiena sfregiata e che non vale 300 dollari? Si disturbano perché quel negro Django è innamorato di Hildy. È sua moglie, magari. Poi perché al tedesco frega un cazzo di chi è innamorato quel morioso arrogante e sia dannato, se lo so. Se è lei che vogliono, perché tante chiacchiere da imbonitore sui mandingo, allora? Quando mai ti scomodavi per 300 dollari? Ma per 12.000? Amiconi per quello, vero o no? Sì, 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 sì. Sua moglie? Mi coltivava una serpia. Poteva mordermi. Quei bugiardi Per di giorno Figli di puttana Figli di puttana!